Si sono costituiti ieri mattina presentandosi al comando di polizia municipale di Vallo della Lucania i due giovani che hanno causato la caduta del mezzo busto di Monsignor Pinto dal suo piedistallo nella piazzetta alle spalle del comune. Sono maggiorenni del golfo di Policastro. Confermata la prima ipotesi emersa dall'analisi delle immagini della videosorveglianza, tutto sarebbe avvenuto nel tentativo di scattarsi un selfie notturna. Uno dei due avrebbe abbracciato la statua mettendosi di spalle e allungando le mani da dietro. Il busto sarebbe rotolato a terra provocando anche una ferita al giovane che a quanto pare avrebbe riportato anche dei punti di sutura. Nessun atto vandalico quindi secondo i ragazzi che hanno chiesto scuse ha assicurato di non aver esercitato una forte pressione e di non aver avuto alcuna intenzione di rovinare il simulacro. Ora la questione dovrebbe dirimersi con la fondazione Pinto a cui però pare sia abbastato il gesto dei due ragazzi fattisi avanti dopo la accaduto. Intanto il mezzo busto è stato sottoposto in questi giorni ad un'opera di ripulitura e sistemazione con ogni probabilità verrà rimesso al suo posto a metà della settimana prossima.